Massimiliano Iannelli, direttore regionale Lombardia dell'Agenzia del Demani. Sono Ilaria Valente, sono professore ordinario di composizione architettonica urbana, Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani. L'inserire il bene all'interno del circuito di C40 consentirà di ben inserire una valorizzazione all'interno di un processo che il Comune di Milano ormai ha attivato da un po' di anni attraverso il piano aria-clima. Sull'ex scuola di Via Zama la capacità di accompagnare l'ente locale dall'idea fino allo sviluppo della progettualità. La partecipazione dei progettisti a questa iniziativa è importante perché è una grande occasione di affermare qualità architettonica urbana e di recuperare dei luoghi che diversamente sarebbero inutilizzati. L'Agenzia del Demanio si pone come catalizzatore dei processi di valorizzazione a 360 gradi finalizzati a riqualificare la capacità di riuscire a portare sul territorio livelli di progettazione con standard elevatissimi. Entrare in Eventing City è importante perché è una piattaforma che lavora a scala globale sui temi della rigenerazione urbana in un'ottica di sostenibilità. Sostenibilità, rigenerazione urbana, attenzione ai territori. L'opportunità è di ridare vita agli spazi della città e di promuovere qualità architettonica.